io vado subito diciamo a ruota e visto che i temi sono molti ed è importante non perdere troppo di vista l'agenda anche se i tempi appunto li stiamo un po dilattando in questa prima fase vi mostro un secondo a schermo la board che possiamo iniziare a compilare con vostri commenti eventuali abbiamo creato tre spazi per i tre interventi il mio sarà il primo e anche io qualche slide che che vi sottopongo il mio intervento è più diciamo fatto di suggestioni più che un ragionamento compiuto l'obiettivo è ovviamente quello di di aggiungere degli sguardi delle prospettive attorno a questo tema molto molto intricato e sfidante e quindi il focus su cui mi concentro è quello legato alle competenze e ai processi di learning and development a supporto dell'innovazione allora mi aggancio sostanzialmente a quanto giulio anche ci ha raccontato in particolare su come cambia il concetto di lavoro la citazione del libro di ricolfi è sicuramente molto puntuale e quindi diciamo l'apparente paradosso di una repubblica fondata sul lavoro in cui punto la principale componente sociale della nostra nostra popolazione invece non lavora quindi non solo la forza lavoro e già minoranza all'interno del paese e quindi questo per dimensioni demografiche ma poi la parte di occupati ovviamente ancora minore e all'interno di questo la parte di dipendenti ancora minore e quindi la componente di ciò che riteniamo ritenevamo essere insomma ciò che è l'aspetto più fondante della società ecco sicuramente sta cambiando sta transitando verso nuovi paradigmi e lo fa da tempo un altro dato sempre per crisi la perdita secca di ore lavorate tra il 2007 e il 2019 tra l'altro in continuità per quanto riguarda invece il numero di persone che lavorano quindi si lavora sempre meno ma soprattutto poi letta con con lo sguardo che ci ha suggerito giulio in realtà c'è qualcuno che lavora sempre di più e altri che lavorano sempre di meno e quindi questa questo principio di concentrazione del lavoro che è un altro elemento importante che ovviamente crea esclusione all'interno del mercato è un altro tema forte ovviamente su questo torno a ragionare un paio di su un paio di slide è il tema della produttività del lavoro che come mostra il grafico qui a sinistra è nel caso italiano sostanzialmente inchiodato a livelli di vent'anni fa più di vent'anni fa e non riesce questo in epoca ancora pre covid a ridecollare o comunque avere una dinamica positiva per quanto riguarda le ore lavorate in europa insomma ovviamente lo stop pesantissimo che si è verificato con il covid ha giunto un elemento di crisi ma che si vede insomma in questo in questo flusso le varie crisi che si sono succedute e che di fatto hanno generato nell'immediato una perdita di ore lavorate ma l'elemento su cui conviene ovviamente concentrarci in particolare laddove parliamo di processi di apprendimento e di sviluppo è proprio il concetto stesso di lavoro di come questo cambia e quindi se in fisica il lavoro è dato dall'energia scambiata tra due corpi attraverso l'azione di una forza e quindi lo possiamo misurare in joule sostanzialmente e poi si è convertito in cavalli vapore ecco non so quanti di noi effettivamente potrebbero riconoscere in definizione del genere quello che è il lavoro che pratichiamo oggi o comunque che immaginiamo per il prossimo futuro un'attività interessante che viene svolta da veneto lavoro in alcuni laboratori fatti con ragazzi queste sono immagini molto del 2019 ci insegnano come loro vedono lo sguardo sul lavoro visto con gli occhi dei genitori e non so quanto si legga ma insomma si si vedono stressante stancante soldi stipendio insomma per fare sintesi e il lavoro che voglio invece felicità ripagante accogliente e a parte uno che in basso a destra ha detto faticoso ma chissà insomma potrebbe essere anche questo un elemento appagante ecco quindi una distanza tra un lavoro di ieri di oggi e quello che ci sia auspica per domani però questa prospettiva è una prospettiva che appunto non è solo nell'immaginazione di alcuni ragazzi delle scuole ma è un qualche qualcosa che sta cambiando effettivamente il modo di di comporre il quadro il mercato delle competenze nei nostri mercati appunto delle economie più evolute comunque e quindi cosiddetti millenials e il loro modo di approcciare il lavoro con un'etica secondo paradigmi che sono comunque nuovi rispetto anche al recente passato e quindi ciò che ad esempio personalmente sono impegnato in diversi territori in questa fase di programmazione per lo sviluppo territoriale ovviamente la transizione giusta si combina con con questi nuovi grandi programmi di investimento next generation EU e ovviamente la nuova politica di coesione tutto il quadro 21 27 dei finanziamenti europei bene i territori stanno chiaramente cercando di attrezzarsi ed è interessante notare come in quei ambienti così come anche ieri durante il nostro workshop dedicato al mismatch di competenze emerge molto chiaro il fatto che appunto per quanto coesista con una disoccupazione un livello di inoccupazione molto elevato è molto molto significativo impattante la fatica che le aziende fanno in particolare quelle nel settore manifatturiero ma non solo a trovare appunto risorse umane a reperire talenti a coinvolgere in particolare giovani e quindi i giovani diventano davvero una risorsa scarsa e sebbene ci sia una disoccupazione giovanile elevata è paradossale che sia anche così complesso per chi organizza invece l'attività di impresa riuscire a trovare questo tipo di risorsa disponibile e coinvolgere nei propri processi quindi ovviamente non si tratta solo di una questione legata a un posto di lavoro e una persona che deve lavorare e uno stipendio dato in cambio di ore di attività ma l'incrocio è sempre più complesso e agisce su fattori punto che sono anche proprio legati a tematiche di motivazione di conciliazione con la propria con altre dimensioni appunto del proprio essere e quindi lo sviluppo di quello che viene chiamato il dynamic working ovvero il fatto che quasi nessun giovane sostanzialmente crede più nella struttura tradizionale del lavoro d'ufficio 9 18 il fatto di cercare il lavoro per la vita ma invece la capacità di puntare sulla propria produttività su una crescita che vuol dire anche però puntare sugli obiettivi e da ragionare su un lavoro di tipo agile fondamentalmente e che quindi sia anche diciamo costantemente alla ricerca di nuove opportunità e che prevede anche molti cambiamenti spostamenti eccetera ecco questa dinamica è una dinamica che che oggi registriamo molto e che ovviamente pone le aziende in una prospettiva di diversa in cui appunto le competenze non sono un qualcosa di diffuso e da selezionare eventualmente semplicemente ma anche un qualcosa su cui costruire e quindi investire anche nello sviluppo delle competenze ma anche investire per il mantenimento di queste competenze all'interno quindi per trattenerle al proprio interno e per essere anche visibili e attrattivi per chi queste competenze ce le ha ed è sempre più una risorsa scarsa bene parlando appunto di di società signorile come è stato detto beh già nelle anni 30 insomma che si era lasciato su su gestionare da una serie di riflessioni legate proprio alla trasformazione tecnologica in atto e quindi il modo in cui il capitale il lavoro insomma si dovesse combinare nel corso degli anni e profetizzò insomma che negli anni 30 ovvero a cento anni di distanza da da quel momento le società avrebbero raggiunto un progresso tecnologico tale da permettersi di lavorare molto poco e il tema forte sarebbe stato la noia quello su cui le nazioni si sarebbero dovute confrontare e come gestire la noia legata appunto al grande tempo libero che il lavoro non più necessario avrebbe liberato beh quindi la proposta è quella di razionare le ore lavorative in blocchi quotidiani da tre ore quindi 15 ore settimanali nella logica appunto di lavorare poco ma lavorare tutti fondamentalmente ecco su questo elemento sul tema della occupazione beh si è investito moltissimo ovviamente in termini di stato e quindi cercare di mantenere occupate le persone al di là forse anche della vera e propria stretta necessità del lavoro che a volte viene questionata e adesso ne diremo qualcosa beh c'è appunto il tema però della concentrazione del lavoro su poche persone che quindi è esattamente l'opposto di quanto veniva indicato da Keynes e allora è una riflessione poi legata al fatto appunto se l'innovazione e chiaramente la transizione ecologica e il digitale che si combina ad essa portano dietro innovazioni tecnologiche importanti e ci si chiede ovviamente se questo crei lavoro serva a rimettere al centro l'uomo e la sua attività come un fattore fondamentale o viceversa e quindi una cosa che si può notare diciamo dai dati ma su cui poi si va a riflettere a dibattere e se appunto questo trend di crescita tra innovazione tecnologica e aumento della dell'occupazione quindi la produttività e l'occupazione siano agganciati beh insomma questo grafico ci mostra quello che viene chiamato il decoupling e quindi c'è uno scollamento su un bivio che che possiamo notare a cavallo tra anni 90 anni 2000 in cui effettivamente la produttività ha preso diciamo una dinamica di crescita simile a quella degli anni passati dal dopo guerra in poi mentre l'aspetto legato all'occupazione è rimasto sostanzialmente al palo un po appunto da fine anni 90 questo per quanto riguarda il mercato degli stati uniti ad esempio ma possiamo anche citare sandra polaschi dell'organizzazione internazionale del lavoro che appunto trattando il tema legato alla scarsa produttività o nello scasso aumento della produttività suggerisce il fatto che in realtà siano proprio i salari bassi la mancanza di sicurezza e fiducia sul lavoro che crei demotivazione nei lavoratori e poi generi fondamentalmente anche una scarsa produttività una non crescita della produttività e quindi oltre a maggiori investimenti in ricerca e sviluppo e tecnologia investimenti pubblici in infrastrutture salute e istruzione nonché anche migliori organizzazioni in termini di struttura e formazione però c'è anche un tema forte su cui ovviamente ogni tanto si si torna a parlare ma forse non abbastanza che è quello dell'aumento dei salari che potrebbe incoraggiare più elevati di valide produttività e non solo viceversa comunque non viceversa ovvero la maggiore produttività poi innescare un aumento dei salari e c'è il tema poi dei lavori ibridi e quindi di come effettivamente tecnologie uomini trovino poi anche dopo alcuni shock che nell'immediato invece possono determinare delle esclusioni e una riduzione anche verticale delle ore lavorate o dei numeri di occupati ma dopo creano anche nuovi spazi di occupazione attraverso però ovviamente la necessità di nuove competenze ad esempio tutto il tema legato all'intelligenza artificiale quindi rapporto uomo macchina e ovviamente è un trend in espansione d'altro canto le stesse tecnologie stanno anche rendendo obsolete tutta una serie di competenze in particolare nel settore del terziario meno qualificato e quindi insomma la tecnologia può creare posti di lavoro e di fatto i dati ci confortano anche in questo ma non è non è un trend su cui siamo certi o su cui possiamo scommettere perché invece casi settori e territori in cui questo non avviene ovviamente è registrabile. I dipendenti di sicuro hanno il compito di assumersi maggiori responsabilità e mantenere le loro competenze pertinenti ed aggiornate questo significa ovviamente che sebbene la tecnologia possa indurre nuove opportunità induce anche cambiamento necessariamente quindi non sono opportunità per tutti e soprattutto non sono opportunità facili da cogliere non sono automatiche e l'elemento fondamentale è proprio quello dell'aggiornamento costante per poter mantenersi appunto un livello di occupazione elevato. Va bene sul decoupling diciamo c'è un caso interessante della politica agricola comune che già nel 2003 insomma sostanzialmente ha distanziato ha separato la ricezione dei sussidi dalla dalla capacità di produrre parliamo di reddito di base al diranno del reddito di cittadinanza che è stato poi attuato in politica da attuale legislatura ma è un tema su cui ovviamente si dibatte molto da molto tempo già dal 1700 e però è un concetto anche in questo caso di decoupling di separazione tra lavoro e reddito fondamentalmente di cui chiaramente le nostre società si interrogano e quindi la cosiddetta jobless econom sul tema appunto di rapporto tra lavoro e occupazione cioè quindi la separazione tra ciò che intendiamo per lavoro e ciò che intendiamo per occupazione è un libro che sicuramente ha fatto molto 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 riflettere anche molto sorridere è il lavoro del sociologo david gaber che purtroppo è mancato tra l'altro e che dopo cinque anni di ricerca pubblicato questo volume bullshit job jobs i lavori del cavolo potremmo dire se non peggio e che parte appunto dall'idea da una domanda che chiese nel proprio blog se vostro lavoro non esistesse quanti ne sentirebbero una mancanza insomma si notò che una buona fetta degli intervistati in realtà riteneva il proprio lavoro inutile privo di senso fine a se stesso è un caso interessante ce l'ha mostrato scopi fondamentalmente una lezione importante ovviamente nei momenti più crudi della pandemia dell'emergenza sanitaria sappiamo che diverse attività economiche sono state chiuse perché ritenute non necessarie e qui appunto abbiamo le statistiche paese per paese di qual è la fetta di lavoro che è stata ritenuta essenziale quale invece è stata tele lavorabile nel senso è stata portata su una piattaforma di lavoro da remoto quelli che sono rimaste parzialmente attive che sono diciamo quel colore azzurro chiaro nel mezzo e poi tutta l'altra fetta non essenziale o proprio chiuse e quindi insomma c'è una fetta delle nostre attività che a conti fatti poi è stata ritenuta appunto non necessaria ed è possibile chiuderla e ancora di più dato sulla destra invece ci mostra anche in questo caso una forte disparità per le attività che appunto sono state tele lavorabili ritenute appunto lavori tele lavorabili quindi che hanno a che fare con il digitale con informatica e con tutte le dimensioni legate all'ICT beh sono anche quelle su cui si concentra la maggiore percentuale di reddito ecco in temi di percentili come concentrazione appunto del reddito mentre sulle attività che sono state proprio ritenute non essenziali quindi non per effetto appunto della chiusura stessa ma in generale sono anche quelle aree su cui il reddito medio è più basso e quindi abbiamo anche in questo caso una fortissima polarizzazione del mercato del lavoro e quindi la nostra economia è da una parte un'economia di lavoretti non la cosiddetta gig economy con le nuove forme di organizzazione dell'economia digitale in cui appunto si lavora un po' spizzichi e bocconi per molti diversi datori di lavoro con forte grado di specializzazione un'intermediazione forte da parte di piattaforme intermediari e quindi l'outsourcing come elemento fondamentale con cui le aziende poi reagiscono anche alla necessità di dotarsi di competenze indipendentemente dalla propria capacità poi di internalizzare ultimissime prospettive che lancio un progetto che mi ha sempre incuriosito interessato è quello di google cosiddetto progetto aristotle che ha visto google impegnata per anni nel tentativo di cercare il team perfetto proprio legato all'ideazione dei processi di innovazione e sviluppo e quindi partendo dall'assunto che il team a fosse composto da persone eccezionalmente intelligenti di successo su vari campi disciplinari quindi un pool fatto delle migliorimenti e che per assunto appunto avrebbe dovuto avere le migliori performance in termini di capacità di innovazione sviluppo e questo team è stato confrontato con le performance di numerosissimi team b diciamo random composti da varie competenze mixate tra livelli esecutivi middle management e anche con ridotti successi professionali beh insomma la cosa interessante che a date la mano i team b tendono a battere i team a e quindi nella loro capacità di essere compositi e differenziati e non tutti eccellenti ma ognuno verticalmente su una propria area e quindi hanno dimostrato sostanzialmente che le hard skills sono poco determinati per il successo del gruppo e quelli che vediamo elencati sulla sinistra e al primo posto la sicurezza psicologica ovvero la libertà che i membri del team sentono di avere nello sbagliare sostanzialmente nel prendersi dei rischi dire una cosa non vera no anche richiede un grado anche di accettazione da parte di tutti gli altri membri e che non è appunto ognuno è il massimo nel suo ambiente nel suo settore e viceversa non entra in quello degli altri ma poi c'è anche appunto la capacità di essere appunto affidabili e la capacità di strutturare con chiarezza e precisione insomma quali sono gli obiettivi quindi una capacità organizzativa da parte dei team e poi c'è una dimensione importante che è quella del significato appunto il fatto che il lavoro non sia un lavoro bullshit per l'appunto ma sia un lavoro pieno di senso significativo e poi la dimensione dell'impatto quindi il fatto che le persone sentano quali sono gli effetti prodotti dal dal proprio sforzo e quindi ne abbiano una rappresentazione vivida e chiara e quindi le competenze che sono necessarie per riuscire a far funzionare dei team in grado di di traghettare le nostre aziende le nostre società nelle nelle varie transizioni che ci si profilano ecco sono sono di varie forme ma di sicuro non a forma di ovvero specialisti verticali incapaci appunto di connettersi con altri soggetti e quindi abbiamo necessità di estendere l'ampiezza delle conoscenze o che la profondità delle conoscenze e quindi ci sono vari paradigmi che trattano delle competenze a forma di t o le competenze a forma di pi greco quindi con ambiti pluri specialistici ma netti da ceretti da una forte capacità anche trasversale o si parla di competenze am o varie forme insomma ehm di multispecializzazione ma di sicuro l'importanza ecco di integrare competenze trasversali e competenze verticali ehm un altro elemento di cui si parla sempre più spesso eh appunto anche all'interno degli elementi di valorizzazione dei percorsi di orientamento e in generale di crescita del nelle carriere è quello del cosiddetto ikigai termine giapponese che indica una ragione di vita la ragione di essere e di esistere insomma che cerca di di mediare vedete il grafico eh di Euler Roven che rende bene il punto il concetto ovvero cercare di integrare ciò che ami ciò che sai fare bene ciò di cui al mondo c'è bisogno e ciò per cui ti pagano e quindi provare a a mixare questi fattori per cercare un proprio spazio nella società ed è chiaro che viceversa la prospettiva delle aziende eh laddove questo tipo di ragionamento implicitamente esplicitamente ma insomma è sempre più sentito in particolare proprio delle persone di maggior talento eh beh è importante ecco cercare di di essere attraente su tutti gli aspetti non solo pagare appunto in cambio di prestazioni eh non solo scegliere le persone giuste eh ma c'è anche insomma un tema legato eh all'utilità sociale ambientale di ciò che viene fatto quindi gli elementi di motivazione e anche la capacità di ingaggiare eh appunto le passioni le anche i valori dei propri collaboratori e lavoratori. Bene l'ultima cosa su cui accenno è legato insomma un paradigma che è emergente e che che di cui si sente anche sempre più parlare ovvero quello delle exponential organization quindi le le organizzazioni esponenziali eh nasce anche in questo caso da un da una pubblicazione del duemila e undici ehm e poi ha seguito insomma una serie di di movimenti di stimoli sul diciamo sul terziario avanzato varie forme di consulenza che cercano di di inquadrare questo di portare questi stimoli all'attenzione delle aziende anche dei nostri territori. Beh il concetto fondamentale di questo tipo di organizzazioni che sono organizzazioni agili, snelle eh che che hanno la capacità appunto di crescere di scalarsi in modo esponenziale ehm beh è il fatto di avere un MTP al centro ovvero un massive transformative purpose cioè un un proposito di trasformazione eh diciamo di rompente massiva eh come elemento centrale no? Quindi una mission che diventa qualcosa di più ed è davvero una vocazione ecco ehm che che guida un po' gli sforzi di tutta la eh l'organizzazione stessa eh vari elementi che non possiamo approfondire ma insomma che combinano un po' le formule della dell'orizzonte eh tecnologico con importanti elementi di di innovazione sociale. Per quanto riguarda la parte di staff vedete staff è on demand e quindi è fortemente outsourced quindi preso da fuori e coinvolto eh diciamo all'occorrenza però c'è anche attorno a queste organizzazioni una vera e propria community di soggetti quindi degli ambiti di di riferimento di competenze dei bacini di competenze che che accompagnano e seguono eh appunto le attività eh con un coinvolgimento da parte degli stakeholder continuativo quindi l'ingaggio delle competenze non è solamente eh diciamo l'assunzione di persone che lavorino all'interno e che offrono il proprio tempo e le proprie capacità eh in cambio di una retribuzione in modo molto regolato e garantito attraverso contratti stabili e duraturi ma è un mix molto più aperto fatto appunto di di incroci ehm molteplici che sono spinti appunto al raggiungimento di determinati propositi e risultati. A questo approccio si accompagna il tema della leadership quella che mi chiamata la compassionate leadership ehm e che appunto mette in risalto tutta una serie di aspetti che di converso entrano ovviamente nella gestione delle relazioni umane all'interno delle aziende su cui non mi concentro anche perché è il tema degli altri relatori in particolare ma che comunque ehm appunto mettono al centro gli elementi che non sono verticali, gerarchici, autoritativi, eccetera ma ehm invece mettono eh proprio nel al centro del focus le capacità relazionali, la capacità appunto di di valorizzare l'interdipendenza eh ma anche l'autonomia, anche l'attenzione eh e appunto la consapevolezza di sé insomma tutta una serie di questioni che ovviamente diventano fondamentali all'interno di un'organizzazione che vuole essere attrattiva per per i lavoratori e che appunto sappia quindi guidare anche il processo di transizione. Bene eh vi ringrazio per l'attenzione e quindi io passo ehm allora la parola a voi tutti eh se avete eh interventi, domande, suggestioni e altrimenti in particolare al professore Paolo Gubitta eh per il suo intervento. Grazie a tutti.